L'agonismo si lascia a qualche altra domenica, dai, oggi l'agonismo ce l'hanno per lì e partano dopo. È partita da Vinci l'edizione 2019 di Giro nel Giro, iniziativa ideata e organizzata da Autostrade per l'Italia nell'ambito del Giro d'Italia 2019, con un percorso scandito dai borghi toscani e il panorama mozzafiato di piazzale Michelangelo a Firenze. È stato il primo dei cinque tour amatoriali in bicicletta tra le bellezze dei paesaggi italiani, con appassionati e famiglie, veri testimonial di uno sport che non ha limiti di età. Finché potrò andare chiaramente cercherò di resistere, di insistere, perché è un grandissimo divertimento. Io non ho 74, che buon bicicletta, 40 anni. È un mondo che non è uguale. Ma c'è anche chi ha le prime armi e chi si pone nuove sfide. Per correre le strade del Giro è sempre una cosa molto emozionante. Quindi, poi ormai il fisico è quello che è, quindi sarà ancora più stimolante. Speriamo, insomma, di riuscire ad arrivare in fondo. Dopo il boom di adesioni, la caravana dei ciclisti ha raggiunto in circa due ore Piazzale Michelangelo, uno dei siti UNESCO che fa parte del progetto di Aspi, sei in un paese meraviglioso. È stata una girata tranquilla, ci siamo divertiti. E ci sono anche le donne che su queste tratte macinano 10.000 chilometri l'anno. La bellezza di farlo stamani è che con la scorta, senza le macchine, ci strombazzano, potendo jaccherare anche in tre in fila. È una rarità. Prossima tappa, Frascati-Tivoli, con arrivo all'ingresso della Villa Adriana.